Musica Sequestrata a casa di riposo, gli uomini della Guardia di Finanza hanno arrestato una coppia di coniugi che gestivano una struttura a nubia risultata non in regola. Bentrovati con la nostra finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Anziani maltrattati in una casa di riposo, arrestato una coppia di coniugi gestori della struttura. Vediamo. Avrebbero trasformato il proprio appartamento in una casa di riposo all'interno della quale gli anziani ospiti sarebbero stati maltrattati. Con queste accuse gli uomini della Guardia di Finanza di Trapani hanno arrestato una coppia di coniugi. La struttura, che insista nel territorio di Nubia, piccola frazione alle porte di Paceco, abusiva e priva di qualsiasi abilitazione comunale e sanitaria, è stata posta sotto sequestro. Le indagini hanno permesso, anche grazie all'ausilio di intercettazioni ambientali, di accertare che i due coniugi, pur percependo in nero circa 1000 euro al mese per ogni assistito, maltrattavano sistematicamente gli anziani ospiti con continue violenze di natura verbale, fisica e psicologica, ed anche somministrando loro medicinali senza alcun controllo medico, al solo scopo di sedarli, soprattutto per le ore notturne. I due sono indagati per lesioni aggravate, maltrattamenti e abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria. Nei confronti degli indagati, inoltre, sono state avviate approfondite investigazioni finalizzate a ricostruire e sottoporre a tassazione i proventi illeciti dagli stessi indebitamente conseguiti. Ci fermiamo qui con la notizia del giorno, tra pochissimo, dopo la pubblicità le altre. I da lì è l'uomo del WWF, dall'operazione della DDA che ha portato ieri l'arresto di 12 persone, emerge una locazione di terreni tra la famiglia Trapanese e Girolamo Culmone, direttore della riserva naturale di Torre Salsa. Il supermercato del riscatto, inaugurato ieri pomeriggio, un nuovo punto vendita della via Convento San Francesco di Paola, realizzato in un immobile sequestrato alla mafia. Seppellite, nostri cari, i disagi al cimitero di Trapani, dove molte salme sono in attesa di essere tumulate. I miti ed il territorio, presentato questa mattina al Palazzo Fici di Marsala, la mostra l'evoluzione del caravaggismo nell'arte contemporanea. E per il Tg Sport, il tweet di Basciano. Il presidente della Palacanestro Trapani, ieri sul social Twitter, ha commentato l'esonero di Coccio Ducarello. Tranchi da sì, tranchi da no. L'ex sindaco di Erice è in questi giorni al centro del dibattito, in vista delle amministrative di primavera. Nell'approfondimento delle 14 e 20, ancora la politica per il voto del 10 di giugno. Eccoci ancora insieme con le nostre notizie. Dall'operazione della DDA, che ha portato ieri all'arresto di 12 persone, emerge una locazione di terreni tra la famiglia trapanese dei Dalì e Girolamo Culmone, direttore della riserva naturale di Torre Salsa. Una piantagione da 13.000 alberi da Polonia, sfruttando il crowdfunding e le facilitazioni fiscali connesse al cosiddetto Decreto Crescita 2.0. Cosa nostra puntava ad investire nel settore delle biomasse? Regista dell'affare Girolamo Scandariato, 49enne, che nell'autunno del 2000 è stato condannato in via definitiva per mafia ed arrestato ieri mattina nel bliz messo a segno dai carabinieri che ha portato in carcere 12 persone, accusate a vario titolo, di associazioni mafiose, estorsione, favoreggiamento e intestazione fittizia di beni. A portare avanti il progetto sono state due società, la Agri Innovazioni e la Paolonia Social Project, che aveva come rappresentante legale e in qualità di amministratore unico Girolamo Culmone, noto esponente del WWF, controllata, secondo gli inquirenti, quasi interamente dalla prima. Il passato giudiziario di Scandariato avrebbe portato il pregiudicato di Calatafimi a cercare di occultare la propria presenza nella società, coinvolgendo il figlio 19enne Nicolò, che a ridosso dell'avvio della pianteggione riceve dal padre il 25% delle quote della Agri Innovazioni. Per riuscire a portare avanti il progetto occorre però trovare un appezzamento di terreno. E' a questo punto che viene contattato in un primo momento Giacomo Dalì, fratello del parlamentare Azzurro, tramite un loro mezzadro, che gli riferisce dell'interesse di alcuni imprenditori agricoli del luogo. La signora Maria Solina, poi deceduta, possiede infatti un fondo incontrato a Chinea, da Trapani, vicino al confine Salemitano. Così entrano in moto i legali della società romana, che per tramite dell'avvocato Cuomo del Foro di Napoli fanno sapere alla famiglia Dalì che verranno come consulenti, tre e quattro persone di fiducia, per un sopralluogo in un altro terreno della provincia, dove già è impiantata la struttura, che poi dovrà essere posta nel nuovo fondo. Il 5 settembre del 2014, così, le parti si incontrano. Tra i partecipanti all'appuntamento c'è proprio i nomi indicati dal legale napoletano, fra cui lo stesso scandariato, mandato a fare da consulente per concludere l'affare. Dopo gli incontri provvedetici alla fattività dell'investimento, si arriva alla stipula della locazione, che viene controfirmata proprio dall'amministratore unico della Polonia Social Project, Gironamo Colmone. Ed è proprio l'uomo del VVF, assai vicino in questi anni al mondo dell'agalità di maniera, che con un certo imbarazzo ha confermato alla stampa, in queste ore, di avere stipulato il contratto con i Dalì, dei quali conoscevo soltanto l'ex senatore. Il direttore della riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco commenta di essersi occupato soltanto della gestione di un progetto avvenieristico nel settore della simulicoltura e che, per esperienza professionale, conoscesse soltanto gli altri soci. Mentre non lo scandariato, conosciuto soltanto in occasione della costituzione societaria della Polonia Social Project, non sapendo che avesse avuto condanne per mafia. Evidentemente non ponendosi neanche il problema di chi fossero i suoi soci, nonostante il ruolo assai delicato di rappresentante legale. Ci spostiamo adesso nel territorio di Erice. È inaugurato ieri pomeriggio in via Convetto San Francesco di Paola un nuovo supermercato in un locale sequestrato alla mafia e gestito da alcuni ex dipendenti del gruppo 6GDO. Abbiamo ascoltato per l'occasione uno dei soci, Alessandro D'Angelo e il sindaco di Erice, Daniela Toscano. È stato, come dice un mio collega, una scalare una montagna. È una giornata bellissima oggi, c'è uno riscatto perché 50 anni trovare un lavoro è difficile. E oggi io sono felice, siamo felici i miei soci, siamo felici assieme ai nostri dipendenti che non sono dei nostri dipendenti ma sono dei collaboratori perché noi vogliamo che la mattina loro si alzino dal letto e vengano a lavorare col sorriso. E noi questo vogliamo fare. Qual è il messaggio che volete dare? Ma innanzitutto non mollare mai, non si deve mai mollare quando soprattutto si è nella legalità e nel giusto. E questo è importante, lo dico sempre anche a mia figlia, perché è un principio fondamentale perché se tu sei nel giusto, nella legalità, hai ragione e allora non ti devi fermare a nessun ostacolo. La città di Erice questa sera festeggia perché c'è un appuntamento importante, un incontro importante quando cambiare il significato alle cose si acquista un valore assolutamente positivo? Assolutamente sì. Oggi è una giornata importante non soltanto per Erice ma per la Sicilia tutta perché quando un bene confiscato si riprende l'attività lavorativa e questa non soltanto è una forma di riscatto ma è una risposta certa, concreta rispetto alla lotta alla mafia. e quindi ha un significato questa giornata che va oltre i simboli sicuramente che sono importanti ma proprio per il messaggio che trasferisce alla comunità che se un bene viene confiscata la mafia comunque è possibile che venga riutilizzato e che gli stessi lavoratori possono continuare a lavorare e quindi a mantenere le proprie famiglie. L'amministrazione di Erice si è sempre prodigata nonostante qualche difficoltà di tipo giuridico però ci abbiamo creduto insieme agli ex lavoratori che si erano costituiti in cooperativa che grazie alla loro testardagio alla loro capabilità e sicuramente anche il bisogno di lavorare ma anche devo dire tanto entusiasmo insieme abbiamo costruito questo percorso importante che non finirà oggi questo non è un supermercato qualunque ma è un supermercato che ha quel significato che ho poc'anzi detto ma soprattutto perché ci saranno tante attività sociali legate appunto a queste attività che interesseranno la comunità di Erice e quindi un invito a tutti di fare la spesa in questo supermercato. Cambiamo argomento problemi di fuoriuscita di liquami in via Niso o una traversa di via Virgilio i cittadini lamentano una serie di carenze genicosanitarie ed hanno annunciato che presenteranno una formale denuncia abbiamo sentito uno degli abitanti della zona che si è fatto portavoce della situazione di malessere. È da circa sei mesi che abbiamo qua le fognature che escono melma e tutto prima abbiamo provveduto per vedere se era un danno nostro o del comune però il danno è del comune sono venuti degli impiegati del comune hanno guardato e sono andati via ora abbiamo Puzza melma bambini che abitano qua e le ore sto facendo delle analisi perché ci sono dei riscontri non positivi o positivi chiamiamolo così denuncerò in procura sia l'ASL sia il comune sia il presidente del comune chi viene davanti perché non si può stare ancora tutto nel 2020 con la puzza voi non l'ascoltate la puzza cioè non la sentite la puzza purtroppo ma è una puzza di melma di urina e che fa infezione più che l'estate sta per venire pure negli altri casi io non so quello che devo dire se loro vogliono venire se loro non vogliono venire dice che siamo sempre in lista ma non lo so ma che lista è? lista politica lista d'attesa qua devono venire a fare il danno e sicuramente come ci hanno detto e devono rompere la strada perché è otturato dal tombino alla fogna noi torniamo tra pochissimo con gli altri servizi a partire da quello sui disagi al cimitero di Trapani seppellite i nostri cari disagi al cimitero di Trapani dove molte salme sono in attesa di essere tumulate i miti ed il territorio presentato questa mattina al Palazzo Fici di Marsala la mostra l'evoluzione del caravaggismo nell'arte contemporanea e per il Tg Sport il tweet di Basciano il presidente della Palazzo Trapani ieri sul social twitter ha commentato l'esonero di Cocci Ducarello i cittadini trapanesi lamentano ancora disagi per i servizi cimiteriali salme in attesa di tumulazione ma anche carenza di personale vediamo erano una ventina le famiglie che questa mattina hanno voluto manifestarci il loro disappunto per le condizioni in cui versa il cimitero comunale l'impraticabilità della cappella dove vengono ammassate le salme in attesa di tumulazione al centro della contestazione le lunghe attese per trovare degna sepoltura l'odore e nauseabondo che sono costretti a respirare per portare un fiore ai loro cari ma anche la mancanza di personale e i relativi disagi a cui sono sottoposte le famiglie già ampiamente provate dal dolore per la perdita di un loro congiunto una città questa che non ha rispetto per i morti figuriamoci per chi sopravvive eppure ci dovrebbe essere un piano per programmare le estumazioni e quindi non trovarsi così come avviene ormai da anni in emergenza noi siamo sempre abituati a dare la colpa di tutto alla politica ma nel caso di Trapani anche in assenza di un'amministrazione scelta dai cittadini il problema resta ergo qualcosa non funziona nella macchina burocratica io volevo denunciare il fatto che c'è una chiesetta dove ci sono tutti i cari allora noi andiamo ogni giorno a trovare i nostri cari intanto abbiamo l'orario stabilito 11 e mezzo 12 e mezzo poi entrando nella chiesa non si può più respirare perché i morti ci sono morti che ha più di un mese che sono qua ci dicono sempre le cose vanno avanti si stanno si stanno si sbloccando ma ancora noi qua non vediamo nulla quanto dobbiamo aspettare ancora? a chi dobbiamo rivolgerci? l'altra volta pure l'abbiamo detto ma non sappiamo a chi rivolgerci e poi oltre a questo ci sono pure altri problemi noi arriviamo un caro l'abbiamo qui oggi l'abbiamo qui domani l'abbiamo lì dobbiamo essere noi andare a cercare i nostri cari dove sono stati messi? quando le persone vengono e salgono sopra lo scivolo non si può andare al cimitero con lo scivolo dove uno si appoggia con lo scotch le ringhiere le persone hanno bisogno anche di essere accompagnate con i propri pulmini non c'è nessuno qua dentro che le può accompagnare soltanto uno e non c'è nemmeno che se ne va in giro per i fatti suoi ma è possibile mai ma come si deve fare? non ci sono neanche dipendenti per lavorare uno qua non lavora e deve stare a combattere le start up per fare la differenza e questo è il tema dell'incontro organizzato dal Rotary Club di Trapani in collaborazione con l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani il consiglio notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala e l'ordine degli avvocati di Trapani che si svolgerà domani mattina dalle 9 alle 13 in via Urialo nella sede dell'ordine di Trapani il seminario ha come obiettivo quello di approfondire gli aspetti giuridici fiscali e finanziari delle start up e le possibilità di finanziamento ad esse rivolte i relatori sono i soci del Rotary Club di Trapani la dottoressa Rosa Giamo notaio il dottor Marcello Ditta commercialista e l'RD incoming del Rotary Act distretto 2110 il dottor Pasquale Pellitteri ci spostiamo adesso a Marsala dove questa mattina a Palazzo Uffici si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento i miti e il territorio nella Sicilia e dalle mille culture l'evento riguarda la mostra l'evoluzione del caravaggismo nell'arte contemporanea la rassegna costituisce la terza tappa di un percorso espositivo iniziato nel 2015 nel castello Normanno Svevo di Salemi la cui mostra curata dal professore Franco Paliaga e diretta da Andrea Maggio raccoglieva 49 opere avendo come soggetto principale l'influenza di Caravaggio e dei Fiamminghi nella pittura meridionale innanzitutto grazie a voi e a tutti che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento che si inaugurerà il 16 e sarà apparta al pubblico dal 17 marzo fino al 16 maggio per quanto riguarda questa prima parte dell'evento poi successivamente daremo spazio nella meravigliosa location nel San Pietro del Fondo Patrimonio Culto quindi Fec ad artisti emergenti in modo che anche loro hanno la loro visibilità e un incoraggiamento a quello di proseguire il mondo dell'arte nello specifico l'evoluzione del caravaggismo dato da questo titolo è quello di mettere a confronto opere del 600 della corrente di Caravaggio che riguardano diciamo quel caravaggismo tra il 1620 e il 1650 con artisti che ad oggi ancora hanno questa sensazione di risentire quello che è il naturalismo il chiaroscuro di Caravaggio stessa tra cui Zocco Normanno Loretta Nameo Alex Folla Ugo Levita e Michelangelo della Morte sono degli artisti abbastanza a mio avviso come dire che riescono a trarre diciamo lo spettatore con la loro grande qualità ma anche inventiva e comunque capacità di trasmettere e emozionare lo spettatore Calos è una è una mostra che vuole appunto andare a cercare la tematica del bello in maniera molto semplice quindi curando il dialogo tra l'artista il territorio la bellezza insita in ognuno di noi e il proprio pubblico e questa mostra sarà appunto poi usufruibile dal 19 di maggio fino al 3 di giugno sempre alla chiesa di San Pietro e le opere tra le opere selezionate ci sarà anche una che riceverà un premio e questo premio sarà una recensione da parte del curatore professore Franco Paliaga e sempre questa opera premiata sarà poi esposta ad ufficio alla prossima edizione del ciclo I Midi e il Territorio l'AISM l'associazione italiana Sclerosi Multipla in occasione dei suoi 50 anni di attività ha lanciato il nuovo evento Benvenuta a Gardenzia per raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla lo scorso weekend in occasione della festa della donna anche la nostra città è stata colorata dalle piantine di Gardenia e Hortenzia in provincia di Trapani i volontari AISM sono stati presenti in oltre otto comuni con diversi punti di solidarietà ed hanno aderito hanno distribuito circa mille piantine di gardenie e Hortenzie il Chivanis di Trapani e l'istituto Livio Bassi no Bassi Catalano insieme per un progetto sulla prevenzione dentaria con noi oggi siamo qui grazie alla collaborazione della professoressa Cottone nella scuola in generale siamo stati prima nei plessi della scuola elementare in via dell'Angelo a Folgatore oggi siamo qui al plesso della scuola media proprio per per avere per realizzare questo obiettivo è quello di prevenire in futuro tutte queste malattie che sono molto costose poi da curare e impegnative dottoressa qual è la prevenzione primaria proprio per i bambini per i ragazzi la prevenzione primaria proprio per la salute orale i 5 punti cardi ne sono proprio quelli dell'igiene orale dell'educazione alimentare delle visite fatte regolarmente dall'odondoiatra e quello di far conoscere la floroprofilassi ai bambini perché se ne parla molto poco diciamo che questo progetto che tra l'altro abbiamo mandato avanti quello di sorrisi smaianti futuri brellanti questa è una cosa che ci tenevo a sottolineare è un progetto che va avanti in tutto il mondo da 4 anni in tutte le lingue e da 4 anni in Italia sono stati coinvolti 360.000 bambini i bambini sono anche ambasciatori all'interno della nostra scuola perché saranno lo stesso i promotori nei confronti dei loro compagni di queste nozioni che hanno appreso in questo corso di prevenzione dentale esattamente la scelta del Chivanis Club che ringrazio nella persona del stimatissimo dottore Alletto e il contributo della dottoressa Palermo hanno previsto un coinvolgimento diretto dai nostri ragazzi in un'attività che è come formazione rientra negli obiettivi del nostro piano dell'offerta formativa a livello di educazione alla salute ma li ha resi reali protagonisti di questo momento formativo per cui c'è stata una bella interazione tra la dottoressa Palermo e i nostri ragazzi riceveranno un piccolo attestato di supereroi dell'igiene dentale e speriamo che questo abbia una ricaduta anche sul gruppo classe Nell'ambito della celebrazione del 150esimo anniversario della nascita dell'Istituto Tecnico di Trapani si è tenuta una lezione del professore Salvatore Costanza sulla figura di Salvatore Calvino l'incontro si è aperto con i saluti della dirigente Margherita Ciotta l'iniziativa è stata rivolta agli alunni delle seconde e quarte classi a cui è rivolto il concorso la figura storica di Salvatore Calvino presentando appositi progetti multimediali in palio una borsa di studio che verrà consegnata al vincitore nel corso della cerimonia del 13 di aprile invece questo pomeriggio alle 17.30 all'Accademia Candischi di Trapani la presentazione del documentario l'eclettico Giuseppe Aniello Caffiero nel corso dell'incontro interverranno Silvia Guaiana Nino Barone Benvenuto Caffiero e Giacomo Caltagirone adesso invece spazio alle previsioni del tempo Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno le temperature saranno comprese tra i 11 e i 15 gradi con venti che soffieranno da nord ovest il mare sarà mosso in serata i venti soffieranno ancora da nord ovest per domani mattina il cielo si presenterà nuvoloso i venti di scirocco soffieranno da sud est le temperature minime si attesteranno attorno agli 11 gradi sui 15 le massime il mare sarà molto mosso i venti in serata soffieranno da sud est e adesso gli appuntamenti questa sera in diretta alle 21 e poi replica alle 23 andrà in onda una nuova puntata di The Politicom con Nicola Baldarotta si parlerà di Erice ospiti in studio i consiglieri comunali Simona Mannina Giuseppe Vassallo Paolo Genco e Giuseppe Spagnolo e adesso una breve pausa pubblicitaria poi torniamo a parlare di sport e anche del tweet di Basciano Eccoci con lo sport cominciamo dal basket dopo l'esonero di Coach Ducarello arriva il tweet dal presidente Pietro Basciano Che la decisione di esonerare Coach Ducarello non fosse stata facile conoscendo l'ambiente pallacanestro Trapani era di facile previsione la società Granata ha sempre dimostrato un sentimentalismo nel senso buono del termine che poco ha a che fare con questo mondo fatto di numeri risultati ancora nei ricordi la presentazione proprio di Coach Ducarello con il presidente Basciano che commosso ringraziava Lino Lardo o basti pensare al contratto quinquennale al capitano Andrea Renzi con una durata improbabile nel mondo cestistico scelte di pancia e di cuore così come fu la scelta di Ducarello nonostante il fatto che fosse nuovo al ruolo di capo e che dovesse portarsi sulle spalle il fardello della sua trapanesità per questo il tecnologico e social tweet di ieri del presidente Pietro Basciano non ci ha sorpresi poche e chiare parole decisione sorferta la più difficile da quando nel 2011 abbiamo preso la gestione del club grazie Ugo per quello che ci hai dato adesso niente più alibi per nessuno un rapporto affettuoso evidenziato dal modo confidenziale ed una ultima frase che grida rabbia per una decisione inevitabile secondo la legge del basket dove a pagare è comunque l'allenatore e che comunque mette in chiaro le cose essere stati costretti a una difficile decisione deve responsabilizzare tutti a partire da sabato sera contro Tortona seduta mattutina invece per il Trapani Calcio che procede spedito verso la sfida di domenica col Visceglie lavoro differenziato intanto per Campagnacci Bastoni continua in recupero di Ferretti tra gli altri ovviamente si è allenato anche Mirko Druti è stata una battaglia una partita difficile per tante situazioni anche il cambio di allenatore loro che poteva dargli stimoli nuovi eccetera eccetera però noi l'abbiamo interpretata bene l'abbiamo preparata molto bene e siamo riusciti a trovare la vittoria che è fondamentale è una vittoria incredibile perché non era facile come tutte del resto in questa categoria quindi siamo contenti e dobbiamo andare avanti così è chiaro che quando cambi qualcosa abbiamo cambiato anche abbastanza noi mi sembra cinque quando arrivi da una situazione che magari hai poco minutaggio poco spazio dopo ritrovare subito il ritmo partita non è facile ci vuole un pochino di tempo però adesso piano piano le cose stanno andando bene stiamo mettendo minuti nelle gambe e ci prepariamo per questo finale di stagione scalare magari non facciamo i movimenti giusti rimanevamo a metà strada e loro riuscivano a trovare degli spazi e abbiamo sofferto un po' anche il palleggio da dietro quello gliel'abbiamo concesso perché l'abbiamo preparata così e niente poi l'abbiamo sbloccata su una palla inattiva come ci capita spesso ultimamente la nostra arma la stiamo sfruttando benissimo e niente poi secondo tempo c'è stato quel rigore che sapete tutti è molto generosa stava proteggendo la palla Silvestri l'attaccante si è lasciato cadere diciamo che il rigore è un po' così provvedimenti del giudice sportivo un turno di squalifica per l'attaccante Felice Evacuo a seguito dell'espulsione rimediata nella gara col Catanzaro per doppia ammunizione per protesta verso l'arbitro e per condotta non regolamentare in campo Evacuo quindi salterà la sfida di domenica col Bisceglie in serie di sconfitta del Paceco col Portici in eccellenza il Marsala è ancora in primo in promozione il Salemi non approfitta della sconfitta del Partini Caudace tanto rammarico per la sconfitta casalinga del Paceco col Portici la squadra di Mister Di Gaetano avendo anticipato il turno di riposo non ha saputo sfruttare gli altri risultati e recuperare i punti sulla terz'ultima il Palazzolo che aveva perso con la Nocerina una possibilità quella di riportarsi a meno 5 punti che avrebbe riacceso concretamente le speranze play out una gara che il Paceco passato in svantaggio con una rete di maggio al diciottesimo aveva saputo raddrizzare grazie all'autorete di Albanese dieci minuti dopo e lo Sergento avevano tenuto botta nel primo tempo affidandosi tra gli altri al giovane portiere noto ancora una volta capace di mettersi in luce ma nel secondo tempo il buio ci pensa ancora Maggio a dare il colpo di grazie al ventisettesimo con il più classico dei gol sbagliato gol subito il Paceco ancora una volta non ha saputo rispondere presente ad una chiamata importante ora la situazione è disperata e domenica a complicare le cose ce la trasferta a Nocera terza ad un punto dalla prima il Troina in eccellenza stesso risultato per Marsala e Licata un 4-0 rispettivamente al Camalat e al Mussomeli così la distanza tra le due squadre rimane invariata tre punti con il Dattilo che pareggiando a Caccamo inciampa nella rincorsa l'ultimo posto nella griglia playoff è occupato dal Mazzara in ottava posizione l'Alba Alcamo vittoriosa con il Casteldaccia in promozione brutta sconfitta per il Salemi col Ravanusa terz'ultimo non per il 2-0 ma per non aver saputo approfittare del passo falso del partinico audace col Castellammare 94 l'unico a sorridere visto il solo punto che lo separa dalla seconda posizione il Campobello è quinto sesto il Cinque Torri che ha battuto l'Alto Fonte 3-1 ultima della classe il Città di Castellammare strapazzato in casa dal Serra di Falco per 5-0 il Cinque Torri Tranchida sì Tranchida no parliamo ancora di politica l'ex sindaco di Erice in questi giorni al centro del dibattito in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 di giugno vediamo il servizio sembra il gioco della Margherita mamma non mamma nei corridoi della politica fra la gente ovunque il tema del giorno è uno solo Giacomo Tranchida si candida oppure no al sindaco di Trapani lui tergiversa argomenta improbabili primari di salute pubblica comunque come da indole non sta con le mani in mano lavorando sul territorio e non soltanto quello trapanese tante riunioni fiume paceque custonaci comprese oltre a sua Valderice dove però i giochi sono già fatti con la ricandidatura di Mino Spezia ma il vero oggetto del contendere e non solo per la stampa resta il capologo qui lo aspettano letteralmente tutti amici sostenitori avversari i candidati sindaci già potenzialmente in pista Bologna e Messina innanzitutto ma anche i 5 stelle e i battitori liberi come Peppe Guaiana avere la certezza della sua scesa in campo significherebbe compattare un quadro assai frastegliato in questo momento soprattutto nell'area moderata gli amici come ha bruscato si ritirerebbero in buon ordine per sostenerlo nel centro-sinistra con ogni probabilità farebbero sintesi contro di lui i suoi avversari dentro e fuori il PD i Gucciardiani ma anche Paolo Ruggirello e Ninodo lui lo sa e aspetta si vocifera di sondaggi in città commissionati ad hoc così come di ipotetiche fronde grilline che potrebbero scendere al suo fianco ancora una volta scontenti della scelta solitaria del senatore Sant'Angelo di candidare un suo fedelissimo Peppe Mazzonello suo attuale addetto stampa di tutto e di più ai comizi elettorali mancano due mesi e mezzo non moltissimo inutile temporeggiare con sorreali proposte che non hanno alcuna possibilità di riuscita come una figura trasversale salvatrice della patria magari legittimato da primarie che nessuno è disposto a fare Trancheda è consapevole che la città ha bisogno di una svolta per ricostruire un futuro di sviluppo proprio per questo è necessario rompere gli indugi quanto prima da parte di chi vuole mettersi a disposizione di questa ricrescita a prescindere da schieramenti liste avversari eccetera perché questo è il vero crucio di tutti i candidati in pectore si parla di idee di programmi di società civile fuori dai partiti tradizionali ma alla fine senza liste coalizioni e sostegno nessuno vuole metterci la faccia una ovvietà che nulla toglie alla sincerità delle varie proposte politiche in campo ma che adesso devono fare sintesi con le candidature vere e proprie i trapanesi devono sapere chi si vuole mettere in gioco per ripartire dopo sei anni di non sindaco i tatticismi che ci stanno anche nelle regole della politica adesso devono essere messi da parte e questo vale per Tranchida come per chiunque altro grazie a tutti